Navi per mari, che io lo so, non esistono più, con te io dirvi vivrò, con te partirò. Cos'è un corso? Cos'è un corso? Cos'è un corso a me, ormai? Is that the best you've ever seen? Cos'è un corso? Cos'è un corso a me? Cos'è un corso a me? Cos'è un corso a me? Grazie a tutti.